gentili telespettatori buona giornata fermi tutti tornano a parlare di patrimoniale l'italia indebitata non fino al collo fino all'ultimo capello adesso draghi vi ricordate che parlava di debito buono debito cattivo ma non avete visto che cos'hanno in comune queste due piccole frasi debito buono debito cattivo hanno in comune la parola debito voi dite questo è un debito buono diceva è un debito buono e quello invece un debito cattivo 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 è sempre debito è il debito va pagato con gli interessi che sia buono simpatico cattivo voi il debito lo potete chiamare giovanni beppe cipe chop babbo natale giaguaro potete chiamarlo come volete ma il debito si paga e adesso avete sentito tra le tante cose che dice draghi grande economista su questo non c'è dubbio è riconosciuto in tutto il mondo debito buono debito cattivo noi adesso facciamo il debito buono perché il debito buono serve come volano per fare ripartire l'economia sono d'accordo caro il mio draghi che il debito buono serve il debito cattivo tipo il bonus monopattini è un debito cattivo incentivi per far ripartire il lavoro è debito buono però sempre debito è e draghi dice è adesso che abbiamo fatto i vaccini abbiamo fatto mandato il piano eccetera eccetera adesso c'è il problema del debito perché negli ultimi due anni il debito è cresciuto come non mai e se prima c'era un certo numero di tasse per coprire un certo debito adesso il quel certo debito che è aumentato come lo copriamo come lo copriamo con i maglioncini con i tappeti i soldi chi fornisce i soldi allo stato per pagare il debito gli italiani e se il debito è più alto che significa che gli italiani dovranno dare più soldi e questa non è non è non è non è un'opinione è una certezza è una certezza è una certezza e poi se uno dice no aspetta io il debito lo copro con altro debito un po come quelli che con la carta di credito vanno a coprire il debito sempre della carta di credito del mese precedente il debito di mille euro lo coprono con mille e ne spendono altri duecento il mese dopo per coprire il mille duecento ne chiedono mille cinquecento arrivano un momento che la banca se ne accorge del giochino e vi ritira la carta di credito e avete finito di fare il giochino quando l'italia finisce di fare il giochino del debito finisce in fallimento fallimento qualcuno di voi dice ma non è mai successo come non è mai successo guardate l'argentina l'argentina è fallita è fallita non ha pagato più nessuno non so se ve lo ricordate cosa un po di qualche anno addietro e così arriva maria cecilia guerra sottosegretaria al ministero dell'economia e finanza in quota leu che vuole tassare i patrimoni l'occasione e la legge delega su riforma irpef perché da qualche parte prima o poi sti soldi li devi far saltare fuori o continui a fare debito su debito e fai ingigantire questo naturalmente i governi italiani quando si susseguono nessuno pensa a fare tasse ad aumentare le tasse se no non vengono più eletti e allora tutti fanno debito tanto poi arriva quello dopo ci pensa quello dopo ma quando arriva quello dopo dice ma mica posso alzare le tasse ma scherzi mi hanno eletto arrivo e tasso e allora nessuno alza le tasse e il debito italiano si gonfia come un dirigibile ma adesso arriva la signora deputata esponente di leu liberi uguali che io non ho mai capito liberi da chi è uguale a che cosa dovrei dovrei cercare su google significato del partito del nome liberi uguali vabbè poi lo cercherò giusto per curiosità dice dobbiamo creare una patrimoniale progressiva e più equa ha scelto le colonne di il manifesto per dettagliare il suo progetto di patrimoniale progressiva cioè se tu hai poco ti porto via poco sto utilizzando porto via ti rubo poco se tu hai tanto ti rubo tanto come dire tu hai un patrimonio così io ti porto via così tu hai poca roba ma ti porto via anche quel poco che hai in proporzione no se porto via il 5 per cento di uno che ha 100 milioni di euro sono 5 milioni di euro se porto via il 5 per cento a uno che ha 100 euro sul conto corrente gli porto via 5 euro ma glieli porto via è la patrimoniale progressiva è visto che menti mentre grillini pensano a chi è l'ore sei tu l'ore grillo o sei tu l'ore conte no mentre qui i sinistri pensano pensano all'economia e pensano come sanare il buchi del debito e la diceva beh facciamo una bella raccolta firme tipo salvini fai il rettoferendum sulla giustizia noi facciamo il referendum per tassare immobili e strumenti finanziari detenuti dai contribuenti quindi voi avete un'assicurazione avete un investimento investimento su bot cct ptt trippici peciop tricotraco la sinistra fa un bel referendum per andare a ruvarvi via i soldi in maniera impositiva me li devi dare e basta e così la sinistra grazie a un'intervista ospitata dal quotidiano comunista torna quindi ad accarezzare l'ipotesi di una nuova patrimoniale l'occasione per istituire il nuovo prelevo fiscale rappresentata dall'iter del documento sulla riforma fiscale approvato dalla commissione finanze di camere senato qualche giorno fa allora tagliamo la corta la situazione io non sono per l'aumento delle tasse per me le tasse vanno diminuite va messa una flat tax una tassa piatta però io sono come economista come draghi come prodi come cacciari estremamente preoccupato per il debito italiano estremamente preoccupato la storiella che lo stato non può fallire no come qualcuno di voi scrive ma tutti gli stati hanno il debito ma che dici insomma quello che dico magari viene dagli studi e dal dal mio insegnamento all'università statale di economia io la cattedra in economia internazionale quindi qualcosina ne so in più della media è qualcosina pertanto vi dico che come preoccupato il professor prodi è preoccupato il professor draghi è preoccupato anche cacciari e tanti altri economisti è preoccupato anche il professor vincitore voi direte chi se ne frega e io sono preoccupato perché il debito è in una situazione terribile non non si riesce più a tornare indietro da un debito del genere a che cosa andremo incontro in un futuro fra quanti anni arriverà il crack pochi tanti molti questa è la preoccupazione che ho ma tutti promettono tagliamo le tasse la 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 e tagliamo le tasse sono tutti bravi a tagliare le tasse ecco uno arriva arrivo io presidente del consiglio vi dico da domani tasse al 10 per cento per tutti eh tipo cettola qualunque no e poi dopo un anno lo stato da fallimento e avete avete pagato per un anno le tasse al 10 per cento è siete andati in pizzeria avete speso speso i soldi e poi se non ha funzionato l'abbassamento delle tasse l'economia non ha avuto una ripresa così tale da recuperare quell'abbassamento di tasse che succede poi un anno da leone e poi tutti falliti quando si fallisce le banche vi portano via i soldi non ve li danno più arrivederci e grazie lo stato non vi paga più le pensioni non paga più gli stipendi agli statali polizia carabinieri ospedali infermieri comuni politici non lo so di tutto di più è difficilissimo non non c'è propriamente una soluzione a questo è non c'è propriamente una soluzione grazie a tutti e buon proseguimento di giornata